Siamo i tanti a crederci nella tua storia. Ho guardato i nostri conti, conti qui di Salerno, un disastro, siamo al disastro finanziario e mi vengono i privi soltanto a pensare che questo metodo di gestione possa essere esteso a tutta la campagna. Dentro di me ho l'assoluta sicurezza che Catolo sarà il prossimo governatore della campagna. C'è la tua storia, un'altra storia c'è, la scriveremo noi con te. E forza Italia, è il tempo di credere, dai forza Italia, che siamo tantissimi e abbiamo tutti un fuoco dentro il cuore.